Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo! Non tirare fuori quell'enorme macchina! Ora puoi rammendare quella cucitura in pochi secondi con SewWiz! La macchina da cucire è compatta e maneggevole, perfetta per veloci riparazioni ovunque. Per ricucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare delle tasche o aggiustare un orlo, SewWiz funziona in modo facile e veloce. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben 4 volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura! Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Basta spendere soldi per riparazioni professionali. SewWiz funziona su tutte le superfici, tutti i tessuti, ovunque e in ogni momento. Ora potete cucire bellissimi costumi, simpatici cuscini, lavoretti e tende personalizzate. Lasciate sbizzarrire la vostra fantasia e create in libertà. SewWiz vi permette di fare tutto da soli, risparmiando una fortuna. Quindi restate con noi e scoprirete la macchina da cucire più grandiosa che abbiate mai usato. Salve, sono Kelly Dedmond. Se siete come noi, probabilmente spendete troppi soldi per lavori di sartoria o semplici riparazioni. Cucire con ago e filo non riesce mai alla perfezione e richiede tempo. E le vecchie macchine da cucire sono più lunghe da preparare che da usare. Lasciate che vi presenti SewWiz. Una macchina da cucire compatta e leggera che vi permette di cucire in modo preciso in pochi secondi. Dotata di tutte le caratteristiche delle grandi macchine da cucire, SewWiz completa il lavoro e vi fa risparmiare tanti soldi. Con SewWiz fate l'orlo a una gonna a dei pantaloni in meno di 5 minuti. SewWiz crea delle cuciture talmente resistenti che reggono fino a 5 chili. Per cucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare le tasche e aggiustare un orlo, SewWiz lavora in modo facile e veloce. I miei due figli crescono così in fretta che non riesco a credere a quanti soldi spendo per i loro vestiti. Grazie a SewWiz non direste mai che il più piccolo indossa gli abiti smessi dal grande? Ho perso molto peso, così nessuno dei miei vestiti mi sta più, portarli dal sarto mi sarebbe costata una fortuna. Ma con SewWiz li ho modificati da sola in modo facile e divertente. Con SewWiz potete scegliere tra due diverse velocità, alta e bassa. La velocità alta per riparazioni veloci e quella bassa per lavori di precisione, come le cuciture curve. Basta selezionare la velocità e cucire come preferite. Potete cucire ovunque, persino in cima alle vostre tende. SewWiz ha dimensioni compatte e può cucire i tessuti più spessi, come il velluto, il jeans, il camoscio e persino la pelle. SewWiz può cucire facilmente diversi strati di tessuto insieme. È davvero magnifica! Cuce perfino i jeans. Posso fare un urlo o modificare un vestito in pochi minuti? SewWiz mi permette di rammendare i vestiti in pochi secondi. Ne tengo uno nella scrivania in ufficio e se mi si scuce qualcosa posso ripararla immediatamente. SewWiz è leggera e abbastanza piccola da essere portata in viaggio e riposta facilmente. È della misura perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i soggiorni in campeggio. SewWiz è davvero comoda e facile da usare ed è così piccola che non devo preoccuparmi di dove la ripongo. SewWiz è potente come tutte le normali macchine da cucire ed è prefilettata, così potete iniziare a cucire immediatamente. Volete cambiare il colore del filo? Infilare un nuovo colore è facilissimo, con SewWiz le possibilità creative sono infinite. Create quello che volete in libertà, deliziosi cuscini, federe, tende, ora potete creare da voi un look da designer, senza doverne pagare l'altissimo prezzo. Non si direbbe mai che sono a corto di soldi, ho reso la mia casa deliziosa. I lavori fatti a mano sono dei regali magnifici, aggiungete dei disegni a tovaglie e tovaglioli per un party perfetto, fate un grembiule per il vostro chef preferito, aggiungete una decorazione agli asciugamani, date un look nuovo a tutto quello che volete. Adoro modificare le cose, con SewWiz finalmente posso farlo da sola. Riparate e rinnovate il vostro guardaroba aggiungendo un tocco di glamour a quei vecchi abiti. È fantastico perché posso riciclare tutti i miei vecchi abiti, posso aggiungere dei piccoli tocchi personali come pizzo, fiocchi o bottoni ed è facile e divertente. Sono piccolina, quindi non trovo mai niente che mi stia. Ora mi rifaccio tutti gli orli da sola e risparmio soldi per altri vestiti. Date una seconda possibilità a quei pantaloni che avete quasi cestinato, ridate nuova vita a quelle cose che non mettete più da anni. I costumi fatti a mano non solo sono economici, ma sono anche divertenti da fare con SewWiz. È divertente per tutti noi fare lavoretti e costumi insieme. È così facile che la usano anche i miei figli. Mamma mi ha aiutato a cucire il costume da principessa quest'anno, era bellissimo. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Oh oh, e non c'è tempo per ripararlo. Quella gonna è un disastro e sei di nuovo in ritardo. Non tirare fuori quell'enorme macchina, non disperarti, riparala. Vi presentiamo SewWiz, la vostra utile macchina da cucire personale che vi permette di rammendare qualunque strappo in modo facile e veloce. Non sprecate tempo con quelle complicate macchine da cucire. SewWiz è senza fili, leggera e compatta. Così potete usarla ovunque, in qualunque momento. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura. Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. Perfino i bambini potranno divertirsi con la moda. Quando andate di fretta, usate il pulsante on-off per l'accesso facile, premetelo e iniziate a cucire immediatamente. Non spendete una fortuna in costose riparazioni. Ora potete cucire come dei professionisti con SewWiz e risparmiare soldi. Leggera e compatta è perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i viaggi. SewWiz funziona anche a batteria, così potete usarla ovunque. Perfetta per il patio o il portico. Potete cucire insieme perfino diversi strati di tessuto. Con facilità è perfetta per le tende pesanti. Con SewWiz potrete decorare la vostra casa in un attimo. Create dei deliziosi cuscini, dei lavoretti per le vacanze e dei divertenti costumi per tutta la famiglia. Non spendete centinaia di euro per comprare ingombranti macchine. Ora potete ordinare la magnifica macchina da cucire SewWiz con questa speciale offerta TV. Ma aspettate! Chiamate ora e vi daremo un pedale per un controllo più preciso della velocità assolutamente gratis. Ma non è finita qui. Vi invieremo anche una confezione da 64 fili e spolette assolutamente gratis. Un arcobaleno completo di colori tra cui scegliere. Riceverete tutto! La fantastica SewWiz con il pedale. Il pacco con 64 fili e spolette. Oggi all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Chiamate ora! Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo. Non tirare fuori quell'enorme macchina. Ora puoi rammendare quella cucitura in pochi secondi con SewWiz. La macchina da cucire è compatta e maneggevole, perfetta per veloci riparazioni ovunque. Per ricucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare delle tasche o aggiustare un orlo, SewWiz funziona in modo facile e veloce. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben 4 volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura! Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Basta spendere soldi per riparazioni professionali. SewWiz funziona su tutte le superfici, tutti i tessuti, ovunque e in ogni momento. Ora potete cucire bellissimi costumi, simpatici cuscini, lavoretti e tende personalizzate. Lasciate sbizzarrire la vostra fantasia e create in libertà. SewWiz vi permette di fare tutto da soli, risparmiando una fortuna. Quindi, restate con noi e scoprirete la macchina da cucire più grandiosa che abbiate mai usato. Salve, sono Kelly Dedmond. Se siete come noi, probabilmente spendete troppi soldi per lavori di sartoria o semplici riparazioni. Cucire con ago e filo non riesce mai alla perfezione e richiede tempo. E le vecchie macchine da cucire sono più lunghe da preparare che da usare. Lasciate che vi presenti SewWiz, una macchina da cucire compatta e leggera che vi permette di cucire in modo preciso in pochi secondi. Dotata di tutte le caratteristiche delle grandi macchine da cucire, SewWiz completa il lavoro e vi fa risparmiare tanti soldi. Con SewWiz fate l'orlo a una gonna a dei pantaloni in meno di 5 minuti. SewWiz crea delle cuciture talmente resistenti che reggono fino a 5 chili. Per cucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare le tasche e aggiustare un orlo, SewWiz lavora in modo facile e veloce. I miei due figli crescono così in fretta che non riesco a credere a quanti soldi spendo per i loro vestiti. Grazie a SewWiz non direste mai che il più piccolo indossa gli abiti smessi dal grande. Ho perso molto peso, così nessuno dei miei vestiti mi sta più portarli dal sarto mi sarebbe costata una fortuna. Ma con SewWiz li ho modificati da sola in modo facile e divertente. Con SewWiz potete scegliere tra due diverse velocità, alta e bassa. La velocità alta per riparazioni veloci e quella bassa per lavori di precisione, come le cuciture curve. Basta selezionare la velocità e cucire come preferite. Potete cucire ovunque, persino in cima alle vostre tende. SewWiz ha dimensioni compatte e può cucire i tessuti più spessi, come il velluto, il jeans, il camoscio e persino la pelle. SewWiz può cucire facilmente diversi strati di tessuto insieme. È davvero magnifica! Cuce perfino i jeans. Posso fare un orlo o modificare un vestito in pochi minuti. SewWiz mi permette di rammendare i vestiti in pochi secondi. Ne tengo uno nella scrivania in ufficio e se mi si scuce qualcosa posso ripararla immediatamente. SewWiz è leggera e abbastanza piccola da essere portata in viaggio e riposta facilmente. È della misura perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i soggiorni in campeggio. SewWiz è davvero comoda e facile da usare ed è così piccola che non devo preoccuparmi di dove la ripongo. SewWiz è potente come tutte le normali macchine da cucire ed è prefilettata, così potete iniziare a cucire immediatamente. Volete cambiare il colore del filo? Infilare un nuovo colore è facilissimo. Con SewWiz le possibilità creative sono infinite. Create quello che volete in libertà. Deliziosi cuscini, federe, tende. Ora potete creare da voi un look da designer senza doverne pagare l'altissimo prezzo. Non si direbbe mai che sono a corto di soldi. Ho reso la mia casa deliziosa. I lavori fatti a mano sono dei regali magnifici. Aggiungete dei disegni a tovaglie e tovaglioli per un party perfetto. Fate un grembiule per il vostro chef preferito, aggiungete una decorazione agli asciugamani, date un look nuovo a tutto quello che volete. Adoro modificare le cose, con SewWiz finalmente posso farlo da sola. Riparate e rinnovate il vostro guardaroba aggiungendo un tocco di glamour a quei vecchi abiti. È fantastico perché posso riciclare tutti i miei vecchi abiti, posso aggiungere dei piccoli tocchi personali come pizzo, fiocchi o bottoni ed è facile e divertente. Sono piccolina quindi non trovo mai niente che mi stia. Ora mi rifaccio tutti gli orli da sola e risparmio soldi per altri vestiti. Date una seconda possibilità a quei pantaloni che avete quasi cestinato, ridate nuova vita a quelle cose che non mettete più da anni. I costumi fatti a mano non solo sono economici, ma sono anche divertenti da fare con SewWiz. È divertente per tutti noi fare lavoretti e costumi insieme, è così facile che la usano anche i miei figli. Mamma mi ha aiutato a cucire il costume da principessa quest'anno, era bellissimo. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo! Non tirare fuori quell'enorme macchina! Non disperarti! Riparala! Vi presentiamo SewWiz, la vostra utile macchina da cucire personale che vi permette di rammendare qualunque strappo in modo facile e veloce. Non sprecate tempo con quelle complicate macchine da cucire. SewWiz è senza fili, leggera e compatta. Così potete usarla ovunque, in qualunque momento. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura. Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. Perfino i bambini potranno divertirsi con la moda. Quando andate di fretta, usate il pulsante on-off per l'accesso facile, premetelo e iniziate a cucire immediatamente. Non spendete una fortuna in costose riparazioni. Ora potete cucire come dei professionisti con SewWiz e risparmiare soldi. Leggera e compatta è perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i viaggi. SewWiz funziona anche a batteria, così potete usarla ovunque. Perfetta per il patio o il portico. Potete cucire insieme perfino diversi strati di tessuto con facilità. È perfetta per le tende pesanti. Con SewWiz potrete decorare la vostra casa in un attimo. Create dei deliziosi cuscini, dei lavoretti per le vacanze e dei divertenti costumi per tutta la famiglia. Non spendete centinaia di euro per comprare ingombranti macchine. Ora potete ordinare la magnifica macchina da cucire SewWiz con questa speciale offerta TV. Ma aspettate! Chiamate ora e vi daremo un pedale per un controllo più preciso della velocità assolutamente gratis. Ma non è finita qui! Vi invieremo anche una confezione da 64 fili e spolette assolutamente gratis. Un arcobaleno completo di colori tra cui scegliere. Riceverete tutto! La fantastica SewWiz con il pedale. Il pacco con 64 fili e spolette. Oggi all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Chiamate ora! Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo! Non tirare fuori quell'enorme macchina! Ora puoi rammendare quella cucitura in pochi secondi con SewWiz! La macchina da cucire è compatta e maneggevole, perfetta per veloci riparazioni ovunque. Per ricucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare delle tasche o aggiustare un orlo, SewWiz funziona in modo facile e veloce. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura! Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Basta spendere soldi per riparazioni professionali. SewWiz funziona su tutte le superfici, tutti i tessuti, ovunque e in ogni momento. Ora potete cucire bellissimi costumi, simpatici cuscini, lavoretti e tende personalizzate. Lasciate spizzarrire la vostra fantasia e create in libertà. SewWiz vi permette di fare tutto da soli, risparmiando una fortuna. Quindi restate con noi e scoprirete la macchina da cucire più grandiosa che abbiate mai usato. Salve, sono Kelly Dedmond. Se siete come noi, probabilmente spendete troppi soldi per lavori di sartoria o semplici riparazioni. Cucire con ago e filo non riesce mai alla perfezione e richiede tempo. E le vecchie macchine da cucire sono più lunghe da preparare che da usare. Lasciate che vi presenti SewWiz. Una macchina da cucire compatta e leggera che vi permette di cucire in modo preciso in pochi secondi. Dotata di tutte le caratteristiche delle grandi macchine da cucire, SewWiz completa il lavoro e vi fa risparmiare tanti soldi. Con SewWiz fate l'orlo a una gonna a dei pantaloni in meno di 5 minuti. SewWiz crea delle cuciture talmente resistenti che reggono fino a 5 chili. Per cucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare le tasche e aggiustare un orlo, SewWiz lavora in modo facile e veloce. I miei due figli crescono così in fretta che non riesco a credere a quanti soldi spendo per i loro vestiti. Grazie a SewWiz non direste mai che il più piccolo indossa gli abiti smessi dal grande. Ho perso molto peso, così nessuno dei miei vestiti mi sta più, portarli dal sarto mi sarebbe costata una fortuna, ma con SewWiz li ho modificati da sola in modo facile e divertente. Con SewWiz potete scegliere tra due diverse velocità, alta e bassa. La velocità alta per riparazioni veloci e quella bassa per lavori di precisione, come le cuciture curve. Basta selezionare la velocità e cucire come preferite. Potete cucire ovunque, persino in cima alle vostre tende. SewWiz ha dimensioni compatte e può cucire i tessuti più spessi, come il velluto, il jeans, il camoscio e persino la pelle. SewWiz può cucire facilmente diversi strati di tessuto insieme. È davvero magnifica! Cuce perfino i jeans. Posso fare un urlo o modificare un vestito in pochi minuti. SewWiz mi permette di rammendare i vestiti in pochi secondi. Ne tengo uno nella scrivania in ufficio e se mi si scuce qualcosa posso ripararla immediatamente. SewWiz è leggera e abbastanza piccola da essere portata in viaggio e riposta facilmente. È della misura perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i soggiorni in campeggio. SewWiz è davvero comoda e facile da usare ed è così piccola che non devo preoccuparmi di dove la ripongo. SewWiz è potente come tutte le normali macchine da cucire ed è prefilettata, così potete iniziare a cucire immediatamente. Volete cambiare il colore del filo? Infilare un nuovo colore è facilissimo. Con SewWiz le possibilità creative sono infinite. Create quello che volete in libertà. Deliziosi cuscini, federe, tende. Ora potete creare da voi un look da designer senza doverne pagare l'altissimo prezzo. Non si direbbe mai che sono a corto di soldi. Ho reso la mia casa deliziosa. I lavori fatti a mano sono dei regali magnifici. Aggiungete dei disegni a tovaglie e tovaglioli per un party perfetto. Fate un grembiule per il vostro chef preferito. Aggiungete una decorazione agli asciugamani. Date un look nuovo a tutto quello che volete. Adoro modificare le cose. Con SewWiz finalmente posso farlo da sola. Riparate e rinnovate il vostro guardaroba aggiungendo un tocco di glamour a quei vecchi abiti. È fantastico perché posso riciclare tutti i miei vecchi abiti, posso aggiungere dei piccoli tocchi personali come pizzo, fiocchi o bottoni ed è facile e divertente. Sono piccolina quindi non trovo mai niente che mi stia. Ora mi rifaccio tutti gli orli da sola e risparmio soldi per altri vestiti. Date una seconda possibilità a quei pantaloni che avete quasi cestinato. Ridate nuova vita a quelle cose che non mettete più da anni. I costumi fatti a mano non solo sono economici ma sono anche divertenti da fare con SewWiz. È divertente per tutti noi fare lavoretti e costumi insieme. È così facile che la usano anche i miei figli. Mamma mi ha aiutato a cucire il costume da principessa quest'anno, era bellissimo. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Oh oh, e non c'è tempo per ripararlo. Quella gonna è un disastro e sei di nuovo in ritardo. Non tirare fuori quell'enorme macchina, non disperarti. Riparala. Vi presentiamo SewWiz, la vostra utile macchina da cucire personale che vi permette di rammendare qualunque strappo in modo facile e veloce. Non sprecate tempo con quelle complicate macchine da cucire. SewWiz è senza fili, leggera e compatta. Così potete usarla ovunque, in qualunque momento. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura. Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. Perfino i bambini potranno divertirsi con la moda. Quando andate di fretta, usate il pulsante on-off per l'accesso facile, premetelo e iniziate a cucire immediatamente. Non spendete una fortuna in costose riparazioni. Ora potete cucire come dei professionisti con SewWiz e risparmiare soldi. Leggera e compatta è perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i viaggi. SewWiz funziona anche a batteria, così potete usarla ovunque. Perfetta per il patio o il portico. Potete cucire insieme perfino diversi strati di tessuto con facilità. È perfetta per le tende pesanti. Con SewWiz potrete decorare la vostra casa in un attimo. Create dei deliziosi cuscini, dei lavoretti per le vacanze e dei divertenti costumi per tutta la famiglia. Non spendete centinaia di euro per comprare ingombranti macchine. Ora potete ordinare la magnifica macchina da cucire SewWiz con questa speciale offerta TV. Ma aspettate! Chiamate ora e vi daremo un pedale per un controllo più preciso della velocità assolutamente gratis. Ma non è finita qui. Vi invieremo anche una confezione da 64 fili e spolette assolutamente gratis. Un arcobaleno completo di colori tra cui scegliere. Riceverete tutto! La fantastica SewWiz con il pedale. Il pacco con 64 fili e spolette. Oggi all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Chiamate ora! Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo. Non tirare fuori quell'enorme macchina. Ora puoi rammendare quella cucitura in pochi secondi con SewWiz. La macchina da cucire è compatta e maneggevole, perfetta per veloci riparazioni ovunque. Per ricucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare delle tasche o aggiustare un orlo, SewWiz funziona in modo facile e veloce. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben 4 volte. E SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura. Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Basta spendere soldi per riparazioni professionali. SewWiz funziona su tutte le superfici, tutti i tessuti, ovunque e in ogni momento. Ora potete cucire bellissimi costumi, simpatici cuscini, lavoretti e tende personalizzate. Lasciate sbizzarrire la vostra fantasia e create in libertà. SewWiz vi permette di fare tutto da soli, risparmiando una fortuna. Quindi, restate con noi e scoprirete la macchina da cucire più grandiosa che abbiate mai usato. Salve, sono Kelly Dedmond. Se siete come noi, probabilmente spendete troppi soldi per lavori di sartoria o semplici riparazioni. Cucire con ago e filo non riesce mai alla perfezione e richiede tempo. E le vecchie macchine da cucire sono più lunghe da preparare che da usare. Lasciate che vi presenti SewWiz, una macchina da cucire compatta e leggera che vi permette di cucire in modo preciso in pochi secondi. Dotata di tutte le caratteristiche delle grandi macchine da cucire, SewWiz completa il lavoro e vi fa risparmiare tanti soldi. Con SewWiz fate l'orlo a una gonna a dei pantaloni in meno di 5 minuti. SewWiz crea delle cuciture talmente resistenti che reggono fino a 5 chili. Per cucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare le tasche e aggiustare un orlo, SewWiz lavora in modo facile e veloce. I miei due figli crescono così in fretta che non riesco a credere a quanti soldi spendo per i loro vestiti. Grazie a SewWiz non direste mai che il più piccolo indossa gli abiti smessi dal grande. Ho perso molto peso, così nessuno dei miei vestiti mi sta più portarli dal sarto mi sarebbe costata una fortuna. Ma con SewWiz li ho modificati da sola in modo facile e divertente. Con SewWiz potete scegliere tra due diverse velocità, alta e bassa. La velocità alta per riparazioni veloci e quella bassa per lavori di precisione, come le cuciture curve. Basta selezionare la velocità e cucire come preferite. Potete cucire ovunque, persino in cima alle vostre tende. SewWiz ha dimensioni compatte e può cucire i tessuti più spessi, come il velluto, il jeans, il camoscio e persino la pelle. SewWiz può cucire facilmente diversi strati di tessuto insieme. È davvero magnifica! Cuce perfino i jeans. Posso fare un orlo o modificare un vestito in pochi minuti. SewWiz mi permette di rammendare i vestiti in pochi secondi. Ne tengo uno nella scrivania in ufficio e se mi si scuce qualcosa posso ripararla immediatamente. SewWiz è leggera e abbastanza piccola da essere portata in viaggio e riposta facilmente. È della misura perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i soggiorni in campeggio. SewWiz è davvero comoda e facile da usare ed è così piccola che non devo preoccuparmi di dove la ripongo. SewWiz è potente come tutte le normali macchine da cucire ed è prefilettata, così potete iniziare a cucire immediatamente. Volete cambiare il colore del filo? Infilare un nuovo colore è facilissimo. Con SewWiz le possibilità creative sono infinite. Create quello che volete in libertà. Deliziosi cuscini, federe, tende. Ora potete creare da voi un look da designer senza doverne pagare l'altissimo prezzo. Non si direbbe mai che sono a corto di soldi. Ho reso la mia casa deliziosa. I lavori fatti a mano sono dei regali magnifici. Aggiungete dei disegni a tovaglie e tovaglioli per un party perfetto. Fate un grembiule per il vostro chef preferito, aggiungete una decorazione agli asciugamani, date un look nuovo a tutto quello che volete. Adoro modificare le cose, con SewWiz finalmente posso farlo da sola. Riparate e rinnovate il vostro guardaroba aggiungendo un tocco di glamour a quei vecchi abiti. È fantastico perché posso riciclare tutti i miei vecchi abiti, posso aggiungere dei piccoli tocchi personali come pizzo, fiocchi o bottoni ed è facile e divertente. Sono piccolina quindi non trovo mai niente che mi stia. Ora mi rifaccio tutti gli orli da sola e risparmio soldi per altri vestiti. Date una seconda possibilità a quei pantaloni che avete quasi cestinato, ridate nuova vita a quelle cose che non mettete più da anni. I costumi fatti a mano non solo sono economici ma sono anche divertenti da fare con SewWiz. È divertente per tutti noi fare lavoretti e costumi insieme, è così facile che la usano anche i miei figli. Mamma mi ha aiutato a cucire il costume da principessa quest'anno, era bellissimo. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Oh oh e non c'è tempo per ripararlo, quella gonna è un disastro e sei di nuovo in ritardo. Non tirare fuori quell'enorme macchina, non disperarti, riparala. Vi presentiamo SewWiz, la vostra utile macchina da cucire personale che vi permette di rammendare qualunque strappo in modo facile e veloce. Non sprecate tempo con quelle complicate macchine da cucire. SewWiz è senza fili, leggera e compatta, così potete usarla ovunque, in qualunque momento. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura. Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. Perfino i bambini potranno divertirsi con la moda. Quando andate di fretta, usate il pulsante on-off per l'accesso facile, premetelo e iniziate a cucire immediatamente. Non spendete una fortuna in costose riparazioni. Ora potete cucire come dei professionisti con SewWiz e risparmiare soldi. Leggera e compatta è perfetta per i dormitori, i piccoli appartamenti o i viaggi. SewWiz funziona anche a batteria, così potete usarla ovunque. Perfetta per il patio o il portico. Potete cucire insieme perfino diversi strati di tessuto con facilità. È perfetta per le tende pesanti. Con SewWiz potrete decorare la vostra casa in un attimo. Create dei deliziosi cuscini, dei lavoretti per le vacanze e dei divertenti costumi per tutta la famiglia. Non spendete centinaia di euro per comprare ingombranti macchine. Ora potete ordinare la magnifica macchina da cucire SewWiz con questa speciale offerta TV. Ma aspettate! Chiamate ora e vi daremo un pedale per un controllo più preciso della velocità assolutamente gratis. Ma non è finita qui! Vi invieremo anche una confezione da 64 fili e spolette assolutamente gratis. Un arcobaleno completo di colori tra cui scegliere. Riceverete tutto! La fantastica SewWiz con il pedale. Il pacco con 64 fili e spolette. Oggi all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Chiamate ora! Oh oh! E non c'è tempo per ripararlo! Quella gonna è un disastro! E sei di nuovo in ritardo! Non tirare fuori quell'enorme macchina! Ora puoi rammendare quella cucitura in pochi secondi con SewWiz! La macchina da cucire è compatta e maneggevole, perfetta per veloci riparazioni ovunque. Per ricucire uno strappo, rammendare una cucitura, riparare delle tasche o aggiustare un orlo, SewWiz funziona in modo facile e veloce. Dal momento che è dotata delle caratteristiche delle grandi macchine da cucire, fa lo stesso lavoro di qualunque macchina da cucire professionale. SewWiz scivola su tutti i tipi di tessuto, dalla seta più delicata alla pelle più resistente. Abbiamo piegato questo tessuto jeans ben quattro volte e SewWiz lo ha cucito perfettamente. E guardate com'è resistente la cucitura! Cucire a mano richiede molto tempo e non è mai perfetto. SewWiz cuce in modo preciso, in modo facile e veloce, che siano linee dritte, curve o disegni particolari. Basta spendere soldi per riparazioni professionali. SewWiz funziona su tutte le superfici, tutti i tessuti, ovunque e in ogni momento. Ora potete cucire bellissimi costumi, simpatici cuscini, lavoretti e tende personalizzate. Lasciate sbizzarrire la vostra fantasia e create in libertà. SewWiz vi permette di fare tutto da soli, risparmiando una fortuna. Quindi restate con noi e scoprirete la macchina da cucire più grandiosa che abbiate mai usato. Con SewWiz potrete decorare la vostra casa in un attimo. Create dei deliziosi cuscini, dei lavoretti per le vacanze e dei divertenti costumi per tutta la famiglia. Non spendete centinaia di euro per comprare ingombranti macchine. Ora potete ordinare la magnifica macchina da cucire SewWiz con questa speciale offerta TV. Ma aspettate! Chiamate ora e vi daremo un pedale per un controllo più preciso della velocità assolutamente gratis. Ma non è finita qui. Vi invieremo anche una confezione da 64 fili e spolette assolutamente gratis. Un arcobaleno completo di colori tra cui scegliere. Riceverete tutto! La fantastica SewWiz con il pedale. Il pacco con 64 fili e spolette. Oggi all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Cucire non è mai stato così facile come con SewWiz. Chiamate ora!